Siamo con Juan Ortiz, Juan Ortiz ha segnato oggi una doppietta che è insomma uno dei due gol fra i tre gol insomma che hanno consentito al Mazzara 46 di vincere contro lo Sciacca. Ecco un rigore trasformato e poi quel gol al trentesimo il secondo tempo, però la prestazione è stata una grande prestazione, ha aiutato molto la squadra anche a far risalire con i compagni a far risalire la squadra, con Perrone ti sei trovato benissimo, ecco qual è l'impressione sulla partita? Ora anzi non ci interessa chi ha fatto gol, sono contento con la prestazione di tutti quanti, ho visto una squadra in campo, ho visto che a ogni pala c'erano due giallorossi quindi questa è una cosa importante, che magari in partite in Coppa ci siamo rimasti con questo sapore amaro di restare fuori, però credo che la squadra c'era stata e c'è stata oggi e penso che se continuiamo questo percorso possiamo fare belle cose. Ecco, toglici una curiosità, il terzo gol è quando l'arbitro inizialmente aveva annullato, però poi insomma tu chiedevi il gol perché l'hai toccato quel pallone, no? L'arbitro è stato giusto a convalidarlo perché ora sembra brutto dirlo, ma l'arbitro è stato bravo a convalidarlo e poi era lo giusto da fare, ora stavamo parlando un'altra cosa magari. Ecco, con Perrone l'intesa cresce, insomma vi trovate a meraviglia, tu hai colpire di testa, lui sta vicino a te, ecco quello che vuole un po' Giovanni Iacono, no? Ecco, è un ragazzo che ha molta corsa, molta efficacità, diciamo che oggi ci siamo trovati bene, ancora manca tanto lavoro, oggi è la prima partita, ma penso che con il lavoro e con quello che dobbiamo fare poi per altre partite possiamo ancora fare meglio.